non c'è niente da dire c'è soltanto che tra la prima e la seconda figura ragazzi giro un filo se state lì a scegliare non venite più fuori bisogna spingere a venire via sfruttare il numero e andare forte ok a manetta è a manetta ricordate anche tecnicamente i vostri errori occhio alla spalla marco e non esagerare quegli spazi in entrata andrea il vice